Nubi all'orizzonte per il Sudafrica, Fitch ha cambiato da stabili a negative le prospettive del giudizio di affidabilità del debito sovrano. Tra i tanti fattori a pesare sull'economia del paese, lo sciopero dei minatori che da cinque mesi blocca l'intera industria di estrazione del platino. A gennaio, oltre 70.000 membri del principale sindacato hanno incrociato le braccia, facendo precipitare la produzione del metallo prezioso e di riflesso la manifattura. L'economia nel primo trimestre si è contratta e nonostante l'accordo per un aumento dei salari sia vicino, le conseguenze finanziarie dello sciopero continueranno a pesare anche nei prossimi mesi.